il periodo del 68 all'ovest e all'est. Allora oggi parliamo rapidamente per darvi delle indicazioni su questo argomento di storia che è molto importante perché si riferisce a una situazione rivoluzionaria che si è creata nel mondo occidentale e all'est, quindi anche nel mondo governato dall'Unione Sovietica, dalla Cina, negli anni Sessanta, fine anni Sessanta, che poi per l'Italia durerà praticamente fino alla fine degli anni Settanta. Le questioni più importanti sono queste, le trovate qua nella timeline, il maggio francese, l'ottunno caldo in Italia, i movimenti negli Stati Uniti, la questione razziale sempre negli Stati Uniti, la primavera di Praga che riguarda invece i paesi dell'est. Allora quello che bisogna prima di tutto per capire è che la protesta è una protesta caratterizzata dalla rivolta di operai e di studenti giovani del blocco occidentale e quindi dei paesi capitalisti che protestano prima di tutto contro alcune riforme, per esempio quella scolastica francese, quindi gli studenti francesi si sono mobilitati contro la riforma scolastica che aumentava la selezione agli accessi universitari, oppure per esempio gli operai, i lavoratori protestano contro gli aumenti del costo della vita per ottenere dei salari migliori, migliori condizioni di lavoro e di studio, ma tutti quanti in tutto il mondo poi protestano contro la guerra in Vietnam. Quindi cosa possiamo dire? Possiamo dire che si tratta di una protesta internazionale che colpisce veramente moltissimi nei paesi in tutti i continenti. Ciò che unisce queste proteste internazionali sono le rivendicazioni che in ogni paese vengono portate avanti dai lavoratori, dagli studenti, ma anche una guerra, cioè la lotta contro la guerra in Vietnam. Però sia i lavoratori che gli studenti contestano il sistema capitalista. Il sistema capitalista non viene chiamato come tale sistema capitalista, ma i media, i giornali invece lo chiamano società dei consumi, perché i giornali hanno timore a chiamare capitalista questo sistema perché hanno paura che queste proteste rimettono in discussione proprio tutto il sistema e allora trovano delle forme più edulcorate come appunto società dei consumi, che poi in realtà la società non era affatto dei consumi perché, diciamo, le proteste venivano proprio perché i salari non bassi la gente non poteva consumare. Quindi è proprio ridicolo questo termine di società dei consumi. Si è parlato anche di consumismo, cioè di dire che la gente consumava troppo. In realtà la gente mancavano le cose, ma delle automobili decenti, no? Ma come oggi, voglio dire, il problema non è che si consuma troppo, ma che si consuma troppo poco, cioè non si hanno i mezzi necessari per andare avanti. Nelle fabbriche si rifiuta anche l'autorità del potere economico e dell'organizzazione del lavoro. Quindi perché in molte fabbriche, per esempio, c'era anche una gestione molto autoritaria. I lavoratori erano trattati proprio, diciamo, in modo inumano, anche le pause per poter andare alla toilette, cioè le cose minime che servivano a un lavoratore per poter lavorare con dignità, molto spesso venivano negate o erano molto scarse. E mentre nella famiglia i figli contestano l'autoritarismo dei genitori, perché a volte le famiglie erano un po' di vecchio stampo e quindi erano così molto impositive, autoritarie. Quello che è interessante è che sia all'Oves che all'Est vengono messi in discussione il potere politico e le discriminazioni dovute alla razza, alla ricchezza, al sesso, all'ideologia, eccetera. Anche sia nei paesi capitalisti sia in quelli tra virgolette comunisti vengono messe in discussione proprio le strutture del potere, quindi del modo anche con cui si governa. E insieme a tutto questo ci sono le donne. Le donne è molto importante perché creano un grande movimento che per esempio in Italia porterà alla conquista del diritto all'aborto e del diritto a divorziare. Sono movimenti che si chiamano movimenti femministi e lo scopo non è rivendicare il diritto di votare, perché questi diritti ce l'avevano già, però per esempio le donne non avevano pari salari. I salari a parità di lavoro, il salario di una donna era inferiore, quindi la rivendicazione di guadagnare allo stesso modo è molto importante ed è stata portata avanti proprio dalle donne. Una differenza tra il blocco occidentale, quindi quello capitalista, quindi Stati Uniti, Europa, Italia, e quello tra virgolette comunista, quindi Russia, Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia, Cina, Cuba, eccetera, è che nel blocco orientale le proteste a volte diventano delle vere e proprie insurrezioni, anche insurrezioni armate e denunciano la mancanza di libertà e l'oppressione da parte della onnipotente burocrazia di partiti e dello Stato, cioè sono rivoluzioni politiche. La gente non vuole, diciamo, restaurare un sistema capitalista perché in quei paesi c'è un sistema di proprietà sociale, quindi un servizio sanitario che funziona, ci sono gli alloggi per le famiglie, ci sono tante cose da un punto di vista economico alle quali non vogliono rinunciare, rischiando di perdere tutto, però vogliono cambiare il sistema politico. Il sistema politico è una dittatura, una dittatura burocratica, una onnipotente burocrazia, cioè una burocrazia veramente spaventosa, poi regimi militari anche, e quindi vogliono ottenere dei miglioramenti democratici anche nei luoghi di lavoro e migliori condizioni di vita, perché la burocrazia oltretutto si accapparava anche di vaste risorse e quindi questi burocrati poi alla fine diventavano dei ricchi, dei privilegiati in questi paesi comunisti ed erano mal visti dalla popolazione. La popolazione giustamente non poteva sopportare il fatto che, come se in un paese tra virgolette comunista, quindi un paese che dovrebbe fare gli interessi della popolazione, certo abbiamo tutti un lavoro, abbiamo delle case, però abbiamo delle case un po' povere, i negozi sono disponibili ma non c'è tanta scelta e poi invece la burocrazia invece ha i suoi privilegi, grossi privilegi, questo non poteva funzionare. Dunque questi popoli all'est sono proprio contrari al sistema di Stato che è stato creato e quindi lo vogliono cambiare. Le proteste, come dicevo, si diffondono in tutto il mondo e va bene, l'abbiamo visto. Un elemento molto importante di tutte queste proteste è rappresentato dai giovani. I giovani protestano in tutti e due i blocchi, quindi all'ovest e all'est. Ricordatevi quando parliamo di ovest è mondo capitalista, quindi Stati Uniti, Francia, Italia, Europa, eccetera, e quando parliamo invece di est parliamo di Russia, Cecoslovacchia, Polonia, Germania dell'est, Berlino dell'est, eccetera. Perché i giovani protestano in tutti i blocchi? Perché avanzano delle rivendicazioni anche su come riorganizzare la società in base a principi di uguaglianza, quindi vogliono maggiore uguaglianza e vogliono poter decidere, contare e vogliono, siccome i giovani sono più disponibili a combattere, a darsi da fare e hanno anche degli ideali, loro hanno l'ideale di avere una società fondata sul principio di uguaglianza, partecipare alle decisioni, eliminare l'oppressione sociale e la discriminazione razziale e poi soprattutto anche tutti i giovani sono contro la guerra. Quindi questo è un po' il quadro generale. Adesso vediamo che cosa succede negli Stati Uniti. Allora, negli Stati Uniti abbiamo visto, si afferma anche il movimento dei cosiddetti hippie. Vi ricordate la Big Generation che abbiamo studiato in letteratura? Bene, la Big Generation diventa un po' come dire il punto di riferimento di questi giovani, di questi giovani che naturalmente non sono tutti hippie, però la maggior parte, la stragrande maggioranza, i giovani americani è in rivolta, occupa le università, occupa le scuole, fa manifestazioni, sit-in di protesta, sit-in vuol dire vai in un posto, ti siedi lì e non ti sposti finché la polizia non ti porta via. Quindi la Big Generation con i suoi usi costumi, la sua grande libertà, l'uso anche di droghe come marijuana, hashish eccetera, ma anche sostanze più pesanti, parliamo di LSD, acidi, per non parlare poi dell'eroina che diventerà un disastro totale, ma diciamo la Big Generation con i suoi modelli comportamentali diventa un simbolo, un punto di riferimento anche, delle proteste giovanili. E poi c'è questo movimento hippie che è un movimento che pensa nella sostanza di mettere in pratica quello che la Big Generation descrive nei suoi racconti, quindi forma delle comuni, vanno a vivere tutti insieme, girano in autostop e poi soprattutto sono pacifisti e infatti vengono battezzati anche chiamati figli dei fiori e poi c'è una canzone italiana che andatela a cercare, è interessante da ascoltare, diceva mettete dei fiori nei vostri cannoni, che io non mi ricordo poi quale gruppo la cantasse, ma c'era questo tema ricorrente dentro la canzone, quindi hippie, figli dei fiori, eccetera. Hanno costumi molto liberali, come vi dicevo, eccetera. Però l'LSD poi è una luce enogena che stronca l'LSD e l'eroina, poi falceranno le vite di decine di migliaia di giovani in tutto il mondo, purtroppo. Poi sempre negli USA, negli Stati Uniti abbiamo un'altra questione molto importante che è quella dei neri. Qui bisogna capire che esistono due fondamentali posizioni sui neri, una è rappresentata da questo signore che si chiama Martin Luther King e l'altra è rappresentata invece da quest'altro signore che si chiama Malcolm X. Come vedete sono entrambi neri, ma hanno due punti di vista diversi. Martin Luther King vuole combattere le battaglie per i diritti civili. Che cosa sono i diritti civili? I diritti civili riguardano il fatto che, per esempio, ai neri deve essere attribuito il diritto di votare, giustamente, oppure il diritto di andare nelle scuole insieme ai bianchi, nelle scuole di bianchi, oppure... Questo è Martin Luther King, giusto? Questo è Martin Luther King. Martin Luther King combatte per i diritti civili. I diritti civili sono i diritti più elementari che una persona deve avere nel suo paese. Non può essere discriminata per i diritti civili e quindi diritti civili vuol dire anche no alla segregazione razziale. Perché negli Stati Uniti c'era la segregazione razziale, c'erano i neri in certe città, non dappertutto, ma i neri dovevano utilizzare dei mezzi di trasporto che non erano quelli dei bianchi, oppure se gli autobus erano gli stessi c'erano i posti per i neri e i posti per i bianchi. C'erano le scuole, le aule per i neri e quelle per i bianchi e così via. C'erano i bar, perfino dei bar nei quali i neri non potevano entrare perché erano riservati ai bianchi. Allora giustamente Martin Luther King dice bisogna combattere per i diritti dei neri e mette in piedi, anzi diciamo c'è già un movimento che poi lui guida veramente di milioni di neri. C'è una famosa manifestazione che farà Washington con un milione di neri davanti alla Casa Bianca che protestano e lì lui pronuncerà un discorso molto importante che si intitola I have a dream, io ho un sogno, il sogno appunto in cui non ci siano più differenze tra bianchi e neri. Invece diversa era la posizione di Malcolm X. Malcolm X era un leader di un'organizzazione che si chiamava Black Panther Party, cioè Partito delle Pantere Nere. Il Partito delle Pantere Nere diceva che naturalmente i diritti, va benissimo avere dei diritti, ma quello che noi vogliamo è l'indipendenza dei neri, cioè vogliamo che i neri abbiano una sovranità nazionale. Abbiamo diritto, dice Malcolm X, abbiamo diritto a costituire la nazione nera e quindi che uno degli stati americani, appunto, a maggioranza nero, possa diventare la sede dei neri, quindi uno stato nero, cioè i neri si vogliono autogovernare. Perché questo? Perché Malcolm X dice noi siamo stati strappati alla nostra terra, che era l'Africa, quindi noi avevamo una nazione, vivevamo all'interno di nostri paesi, che erano quelli africani, ma questi legami sono stati distrutti. Quindi noi vogliamo, non vogliamo essere alla pari in una nazione di bianchi governata da bianchi. Un'opzione equilibrata. Ok? Perché noi potremmo anche avere il diritto di frequentare le scuole dei bianchi, ma vivremo sempre in un paese razzista, in un paese dove siamo guardati, perlomeno in alcuni stati, dove siamo guardati in modo differente. Quindi le discriminazioni continueranno ad andare avanti. Invece noi vogliamo proprio una nazione, l'autodeterminazione. Vogliamo avere un posto, un posto all'interno della confederazione americana, che sia uno stato dei neri. E si forma le Black Panther Party, le quali, come potete vedere qui, sono un partito armato, perché ed era legale, vedete, questi sono, non so se si vedono, ma diciamo hanno dei fucili, delle pistole, così e tranquillamente vanno in giro per le strade, organizzati così, come dei picchetti. Perché? Perché devono difendere i neri. Da che cosa? Beh, per esempio, da Klu Klux Klan, perché c'erano delle organizzazioni negli Stati Uniti che si divertivano a linciare i neri, a catturarvi e impiccarvi per le strade, o a torturarvi. Quindi è perfettamente comprensibile che i neri abbiano deciso di darsi un movimento di sicurezza, un partito che sia anche in grado di difendere. Il problema è che le Black Panther Party erano sempre di più verso sinistra, quindi guardavano con grande interesse al comunismo, al socialismo, anzi si definivano marxisti, cioè proprio un'organizzazione di sinistra. E come sapete negli Stati Uniti il comunismo era visto proprio male, specialmente dall'amministrazione americana, come l'Unione Sovietica era il principale nemico degli Stati Uniti e questi qui vanno a propagandare in giro il fatto che i neri si devono rendere indipendenti e per di più devono pure diventare comunisti. Cioè questo era veramente inaccettabile. Entrambi questi leader politici sono stati uccisi. Adesso non ricordo se di Malcolm X è stato trovato proprio l'assassino, quello che materialmente l'ha ucciso, credo di Luther King sì, ma comunque quella era manovalanza, non si capisce bene il senso di questi omicidi, perché è vero che nascono in un clima fortemente razzista, quindi sapete in questo clima c'è sempre qualche pazzoide che apre il cassetto, prende il suo revolver e va ad ammazzare qualcuno. Quindi questo è normale, diciamo così, in una situazione del genere, ma noi non sappiamo se dietro ci sono state delle manovre da parte di chi. In ogni caso che cosa succede? Che decapitata la testa delle pantere nere, quindi Malcolm X, poi l'FBI intraprende uno scontro violento armato contro le Black Panther fino a entrare, a fare irruzione in una cascina in campagna dove la direzione delle Black Panther si stava riunendo e gli uccide, gli aggredisce proprio armi alla mano e fa fuori praticamente la direzione di questo partito e contemporaneamente viene introdotta l'eroina negli ambienti neri. L'eroina, il crack, praticamente ha un effetto devastante perché porta ad almeno una serie di conseguenze. Uno è che riduce in povertà i miseri neri perché l'eroina viene introdotta dapprima gratuitamente e poi viene fatta pagare e quindi rovina proprio i neri che li spinge verso la violenza, quindi verso la delinquenza. Da lì nascono poi tutti gli stereotipi anche cinematografici dei neri, del Bronx, di Harlem, eccetera, duri, delinquenti, pericolosi, eccetera. Poi ha un altro effetto che è quello di corrompere dei neri. Magari questo tizio diventa disponibile a collaborare con l'FBI e quindi a tradire i suoi compagni, a fare dei nomi, a così indicare depositi di armi, eccetera. E come terza conseguenza favorisce il movimento di Luther King. Luther King anche viene ucciso e quindi praticamente Luther King diventa un'icona del movimento nero. E dunque vedete che la morte dell'uno decapita il movimento pericoloso per lo Stato, che è quello delle Black Panther, e invece la morte dell'altro, come dire, favorisce il movimento per i diritti civili, perché tutti a questo punto seguono le indicazioni di Martin Luther King. Ma il movimento di Martin Luther King è anche più controllabile, se vogliamo, meno rivoluzionario per lo Stato. E quindi alla fine, diciamo, lo Stato americano concede questi diritti civili però la situazione per i neri non cambia, perché il problema è che io posso anche andare a votare, io nero posso anche andare a votare, ma se tu non mi dai un lavoro, se mi dai un lavoro e viene pagato meno di un bianco, se mi dai un lavoro e viene pagato meno di un bianco e per di più rischio di essere anche licenziato, cioè io francamente il diritto di voto lo uso come carta igienica per andare a fare i miei bisogni, il bollettino della scheda elettorale, perché quello che io voglio è avere delle condizioni di vita dignitose. Quindi, capite, c'è una contraddizione tra, è questo che dovete capire, tra i diritti civili, e da una parte, e le condizioni sociali reali dall'altra in cui i neri vivono. Infatti, le rivolte nere esplodono ed esplodono anche, e sono esplose ancora recentemente, qualche anno fa, perché sono le condizioni di vita dei neri che sono difficili e i diritti civili che nel frattempo sono stati conquistati non hanno risolto il problema dei diritti sociali, delle condizioni sociali di vita. Quindi il 68 negli Stati Uniti vede veramente rivolte a Los Angeles, vede quartieri incendiati, battaglie con la polizia, manifestazioni di massa, più gli studenti, più la classe operaria americana, la working class, che entra in sciopero, boicotta l'economia. Quindi gli Stati Uniti vedono in quegli anni un grosso problema. Però, quindi praticamente Malcolm X, il suo movimento era più per rivendicare i diritti dei neri? Era più rivoluzionario, era per l'autodeterminazione, la costituzione di uno Stato indipendente dove i neri potessero vivere secondo i loro desideri. Mentre invece Luther King era per l'integrazione dei neri nella nazione bianca. Invece Malcolm X diceva che questa integrazione era una illusione perché avrebbero dato dei diritti ai neri, certamente, ma non avrebbero cambiato le condizioni di vita dei neri stessi in una nazione fondamentalmente razzista. Ok, grazie. Prego, assicurati. Bene. Quindi, negli Stati Uniti, ecco, in America, ricordate che in America tutto questo comincia dal metà degli anni 60, 1966. Quindi la data del 68 sarebbe da considerare più il 66 quando anche l'Università di Berkeley viene occupata e ci sono le prime manifestazioni di massa degli studenti, eccetera. Però si fa sorgere 68 in Francia nel 68 due anni dopo. Intanto le proteste negli Stati Uniti continuano e poi finché si arriva in Francia in Francia c'è questa legge questa legge di riforma universitaria che scatena le proteste degli studenti la legge Fouché la riforma Fouché questa riforma viene respinta perché comporta una grande selezione da parte degli studenti il restringimento degli accessi universitari quindi la Sorbonne che è una delle principali università parigine viene chiusa dagli studenti viene occupata gli studenti rigono delle barricate lungo le strade intorno alla Sorbonne per tre giorni ci sono degli scontri per tre giorni e tre notti ci sono degli scontri con la polizia che attacca non ci sono morti fortunatamente ci sono centinaia di feriti e però la CGT la Confederazione General d'Utravai e altri sindacati organizzano una grande manifestazione dove milioni di persone partecipano insieme agli studenti perché ovviamente sono i genitori come dire i familiari che sono i loro padri i loro i operai eccetera che partecipano insieme agli studenti in sostegno degli studenti stessi e inizia uno sciopero generale uno sciopero generale che porterà poi a dei risultati importanti alla conquista di una serie di riforme rivendicazioni favorevoli aumenti salariali migliori condizioni di vita servizi sociali migliori eccetera 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 questo corteo la foto che vedete qua è del 13 maggio 1968 ecco che un enorme corteo attraversa le strade di Parigi gli scioperi si moltiplicano e sono occupate addirittura decine di fabbriche quindi gli operai entrano in queste fabbriche stanno dentro le occupano bloccano la produzione non se ne vanno e e lo fanno in decine di città ecco perché si parla del 68 francese come data d'inizio perché perché il 68 francese ha veramente fatto tremare lo Stato francese si era a un passo da una vera e propria rivoluzione e quindi dall'abbattimento dello Stato stesso e della restaurazione di un potere diverso gestito dagli operai dagli studenti dei lavoratori francesi loro rivendicano aumenti salariali migliori condizioni di lavoro diritti sindacali e così via la Sorbona era stata ribattezzata dagli studenti Università del Popolo lo sciopero generale operaio dura diversi giorni e porta appunto come vi ho detto numerose conquiste contratti nazionali di lavoro per esempio diritti sindacali assemblee di organizzazione eccetera allora il presidente de Gaulle che cosa fa decide di sciogliere l'assemblea nazionale e di indire nuove elezioni e queste nuove elezioni le vince le vince perché i partiti di sinistra sono divisi tra di loro perché la gente non partecipa molti non partecipano all'elezione i partiti di sinistra fanno una politica un po' così di secondo piano mentre de Gaulle è molto aggressivo e quindi vincerà queste edizioni però l'anno successivo sarà cacciato da un referendum che perde clamorosamente perché indice un referendum per avere quasi pieni poteri gestire lui la Francia tutta la situazione la popolazione si rifiuta e quindi de Gaulle è costretto a lasciare il governo e quindi questa è una grande vittoria popolare dei lavoratori degli studenti francesi questi movimenti di protesta che sorgono spesso accusano l'Unione Sovietica e i partiti comunisti come quello francese di essere troppo compromessi con i regimi borghesi cioè cosa dicono i giovani gli operai dicono che il partito comunista il partito socialista cioè i partiti che hanno sempre rappresentato i lavoratori e gli studenti quelli che erano usciti dalla seconda guerra mondiale praticamente sono diventati dei partiti troppo compromessi con lo Stato con il capitalismo non sono più dei partiti rivoluzionari hanno rinunciato alle loro prerogative rivoluzionari e si sono sottomessi agli accordi internazionali con gli Stati Uniti e quindi vengono formate anche delle organizzazioni diverse in Italia per esempio si formerà lotta continua avanguardi operai al PDUP una serie di organizzazioni e così anche in Francia prendono vita dei piccoli partiti di estrema sinistra che contestano che contestano i grandi partiti di sinistra tradizionali e noi possiamo vedere alla lunga perché sono passati tanti anni possiamo dire che avevano ragione a dire questo perché infatti oggi la sinistra non solo praticamente non esiste più ma la sinistra che abbiamo e si definisce sinistra non ha più grandi differenze con la destra praticamente non ha fatto niente a favore dei lavoratori della popolazione ma anzi le riforme più reazionarie come il job art come le riforme del lavoro eccetera sono state fatte da Renzi che faceva parte del PD che era quello che era un partito appunto che derivava dall'evoluzione del partito comunista quindi i partiti socialisti comunisti hanno perso con l'andare degli anni i loro principi e sono diventati veramente dei partiti borghesi che fanno gli interessi della borghesia e non della popolazione e noi abbiamo proprio un esempio in Italia sotto gli occhi di tutti praticamente e qui parliamo dell'appunto dell'Italia in Italia anche nel 66 ci furono sciopoli per rinnovo del contratto quindi il 68 anche in Italia parte un po' prima ci sono degli episodi per esempio ci sono delle lotte antifasciste perché in Italia c'erano ancora dei fascisti che agivano però i lavoratori si ribellavano alle loro azioni e c'era un clima teso verso la fine degli anni 60 e alle elezioni del 68 i partiti di sinistra avevano avuto una progressione mentre la DC no la democrazia cristiana questo in Italia giusto? la stazione era un po' tesa in Italia la situazione sì abbiamo finito la franca e stiamo parlando dell'Italia lo vedi qui dal titoletto vedi? operai e studenti in Italia ecco in Italia diciamo anche che in Italia abbiamo cominciato prima a manifestare così e le elezioni del 68 hanno determinato un progresso per i partiti di sinistra invece al posto della democrazia cristiana la democrazia cristiana era quel famoso partito sorto dopo la guerra che ha sempre governato fino al 92 praticamente e come lì in Francia anche in Italia si rafforzano molti gruppi di estrema sinistra per esempio Psiup che ottiene anche il 4% dei voti insomma ci sono cioè la situazione tra l'Italia e la Francia è molto simile molto simile ci sono occupazioni di università scuole e così via e poi vedete il movimento femminista aborto libero divorzio eccetera e anche in Italia si manifesta contro le riforme universitarie restrittive e poi si ottiene una grandissima conquista nel 1971 si ottiene lo statuto dei lavoratori che è quello che Renzi ha messo in discussione quindi è stato adottato proposto poi votato in Parlamento da partito socialista partito comunista e così via e poi il partito democratico che è quello che deriva dal partito comunista l'ha rimesso in causa in particolare il famoso articolo 18 che impediva i licenziamenti senza giusta causa ed era una grossa protezione per i lavoratori vedete quindi la storia come funziona nel 68 69 si lottava per ottenere le conquiste nel 71 c'è questa grande conquista dello statuto dei diritti dei lavoratori e poi invece due o tre anni fa 2016 mi sembra il job act di Renzi cioè del partito democratico che deriva poi dal partito comunista rimette in causa quello che invece trent'anni prima era stato conquistato si ottengono anche i contratti collettivi nazionali e per esempio la fine delle gabbie salariali cioè il fatto che i salari erano diversi tra la Puglia e Milano e questo divideva i lavoratori perché se si entrava in sciopero naturalmente essendoci condizioni diverse i lavoratori percepivano la loro situazione come differente quindi non sempre gli scioperi nazionali potevano unire veramente tutti i lavoratori e allora queste gabbie salariali sono state abolite e gli stipendi sono stati livellati in tutta Italia poi sono stati conquistati non so gli asili nido la sanità pubblica nazionale per esempio nel 78 il decreto di istituzione della sanità pubblica nazionale è del 1978 oggi la sanità invece è fondamentalmente regionale regionale poi si pagano i ticket prima era gratuita sono stati portati dei colpi importanti sono stati tolti dei posti letto le condizioni sanitarie sono diminuite è uno dei motivi per cui noi oggi abbiamo difficoltà a curare ad accogliere tutti quelli che sono in pericolo per il virus è proprio il fatto che la sanità pubblica nazionale non è più quella che è stata conquistata all'epoca cioè nella sostanza come dire le conquiste i governi cercano di riprendersi di rimangiarsi le conquiste che sono stati costretti a accedere però si dimostra invece che la sanità pubblica nazionale è un bene e bisognerebbe ritornare proprio alla sanità pubblica nazionale questa emergenza dimostra esattamente questo dimostra che tutte le politiche che sono state adottate negli ultimi 40 anni praticamente 30 anni sono delle politiche sbagliate che poi colpiscono la popolazione poi sono state varate le leggi per il divorzio e l'aborto aumenti salariali miglioramenti delle pensioni anche qui per esempio le pensioni oggi sono poste sotto attacco si va in pensione a 67 anni anziché a 60 e poi 65 le pensioni sono più basse il calcolo della pensione non è come quello che veniva calcolato una volta per cui sull'ultimo stipendio più alto che hai avuto ma è tutto un calcolo molto arzigogolato che poi alla fine si basa sui contributi che sono stati versati quindi è proprio un grosso problema non solo nel 75 c'è una grandissima conquista economica che è la scala mobile dei salari la scala mobile dei salari viene stesa a tutte le categorie c'era per alcune categorie private non c'era per il pubblico impiego e per altre categorie e che cos'è la scala mobile dei salari la scala mobile dei salari è che se aumenta il costo della vita automaticamente aumenta anche il tuo salario il tuo stipendio pensate che nel 1992 la scala mobile dei salari è stata eliminata ed è stata eliminata con un accordo sindacale ed è stata eliminata sempre con un accordo dei famosi partiti di sinistra che hanno abbandonato le loro posizioni a punto di sinistra per cedere su tutta la linea e quindi noi oggi ci troviamo senza la scala mobile dei salari che ci farebbe molto comodo per esempio in questa situazione perché se la crisi economica va avanti questa crisi del virus colpisce l'economia e quindi l'economia crolla crollano anche i nostri salari e invece la scala mobile dei salari ci difendeva non difendeva completamente perché non copriva tutto c'era un paniere che calcolava l'inflazione in un modo un po' strano però comunque era una conquista importante che stabiliva un principio cioè il principio che i lavoratori hanno diritto a sopravvivere hanno diritto ai loro stipendi e che loro non sono responsabili delle crisi ma le crisi sono responsabili i governi cioè chi sta in alto ma non chi sta in basso e quindi poi ah questo è anche importante vedete c'è la graffettina dice che praticamente tutti quanti combattevano contro la guerra in Vietnam scatenata dagli americani ora vedete gli americani gli Stati Uniti l'esercito degli Stati Uniti bombardava il Vietnam vediamo se c'era una foto qua molto famosa eccola qua vedete questa bambina nuda che scappa le bombe al napalm i soldati americani dietro guardate questo è suo fratello sono due fratelli tra l'altro sono vivi e ci sono state recentemente anche delle interviste quindi and the war in Vietnam now subito subito no alla fine alla guerra in Vietnam tutti lavoratori studenti eccetera di tutto il mondo protestavano contro la guerra in Vietnam sulla guerra in Vietnam c'è da dire una cosa importante cioè che i fotografi hanno documentato questa guerra fotografi cineasti quindi il mondo vedeva vedeva sui giornali vedeva nelle riviste vedeva in televisione le atrocità che venivano commesse durante questa guerra una guerra scatenata dagli Stati Uniti contro il Vietnam del nord e contro la guerriglia anche del Vietnam del sud cioè contro praticamente i movimenti comunisti socialisti rivoluzionari di sinistra e per fare questo ha fatto un colpo di stato nel Vietnam del sud ha preso ha favorito un colpo di stato la CIA e l'FBA gli Stati Uniti hanno favorito questo colpo di stato si è formato un governo a favore degli Stati Uniti nel Vietnam del sud e quindi è partita la guerra contro il Vietnam del nord perché gli Stati Uniti hanno violato degli accordi internazionali gli accordi stabilivano che il Vietnam del nord si sarebbe unificato a quello del sud e si sarebbero state indette nuove elezioni nazionali invece gli Stati Uniti hanno firmato questo accordo ma poi si sono opposti e quindi hanno poi scatenato questa guerra e dicevo la fotografia ha un ruolo molto importante oggi per esempio è molto complicato fotografare deve essere accreditato nei diversi eserciti perché i governi hanno capito come può essere rivoluzionario lo strumento della fotografia e del cinema e quindi adesso è tutta un'altra storia deve essere accreditato ti impediscono in ogni modo di fare fotografare così però c'è internet e quindi tanta gente invece con i suoi cellulari con i suoi strumenti riesce a documentare quello che succede e attraverso i social noi siamo ritornati un po' ad avere le immagini reali di quello che succede nel mondo però poi cosa succede? poi chiudono internet chiudono i social e quindi in certi paesi si arriva a fare questo dunque nel 68 si moltiplicano in Italia torniamo in Italia le lotte contro per esempio il cottimo che era una retribuzione che avveniva in quanto avevi sulla base di quello che avevi prodotto in tempo reale quanti automobili quanti sportelloni quanti volanti eccetera invece la retribuzione adesso passa e che è questa retribuzione del cottimo molto grave perché il lavoratore si sfianca si sfinisce si stressa si ammala pur di lavorare di più e portare a casa qualche soldo in più invece adesso la retribuzione fondamentalmente avviene attraverso il tempo quindi io ti assumo tu lavori otto ore lavori sei ore e sei retribuito per le ore che lavori Amazon il grande gruppo di Amazon sta ritornando invece a una retribuzione basata sul cottimo perché impone dei ritmi di lavoro forsennati stoccaggio pacchi consegni eccetera dei sistemi di controllo degli agg elettronici che i lavoratori devono indossare che documentano la loro attività per cui Amazon sta diventando veramente un'organizzazione direi che si potrebbe definire schiavista del mondo del lavoro e poi c'era la sicurezza la nocività del lavoro in fabbrica i ritmi di lavoro quindi i ritmi di lavoro erano forsennati per esempio alla Marzotto che è un'industria tessile in Veneto nell'aprile del 68 quando aumentano i ritmi di produzione viene fuori una gli operai escono dalla fabbrica fanno una grande manifestazione operaia che abbatte la stato del conte Marzotto che si trova in piazza poi ci sono degli arresti eccetera però provoca una solidarietà popolare la popolazione è d'accordo con questi operai quindi per diminuire i ritmi per un lavoro più umano più decente poi nascono anche i cubo comitati unitari di base cioè sono delle riunioni delle assemblee dove i lavoratori decidono per proprio conto come continuare le lotte che cosa fare oppure i consigli di fabbrica che erano formati da delegati eletti quindi in ogni luogo di lavoro i lavoratori eleggevano i propri rappresentanti che si riunivano e decidevano che cosa fare diciamo sì facciamo uno shop di 24 ore vogliamo un aumento salariale vogliamo avere la possibilità l'orario flessibile la mattina portare i figli all'asilo a scuola eccetera e si riunivano anche tra fabbriche diverse anche a livello nazionale i consigli di fabbrica formando riunioni a cui partecipavano i delegati eccetera e questi consigli di fabbrica avevano un ruolo molto importante oggi non esistono più oggi non esiste più una forma di auto organizzazione dal basso e quindi diciamo non siamo più nel periodo del 68 però questo per mostrarvi come le cose poi i governi cercano poi di riassorbire questi movimenti di impedire che si spingano troppo avanti fino a rimettere in discussione il governo e lo Stato ora nei paesi dell'est anche l'ultimo argomento è la primavera di Praga nei paesi dell'est succede alla fine la stessa cosa succede una grossa rivolta rivolta ce n'è un po' dappertutto ci sono manifestazioni scioperi in Ungheria in Polonia nella stessa Unione Sovietica nascono dei sindacati liberi clandestini quindi c'è proprio una rivolta generalizzata ma a Praga in Cecoslovacchia la Cecoslovacchia tocca il punto più importante intanto dovete dire ricordatevi che in Ungheria nel 1956 scoppia una rivolta una rivolta un'insurrezione una vera e propria rivoluzione popolare che porta a cambiare il capo del partito comunista la popolazione vuole Nagui Nagui era un amico del popolo diciamo così era stato incarcerato anche in Unione Sovietica la popolazione vuole che torni Nagui e che Nagui diventi il nuovo leader del partito comunista e Nagui viene rieletto e quindi a questo punto la popolazione insorge perché pensa che con Nagui si possono cambiare le cose e dunque vengono formati consigli di fabbrica in tutta la Cecoslovacchia si armano gli operai anche occupano le fabbriche perché hanno paura della reazione dell'Unione Sovietica e Nagui che cosa dice? Nagui dice va bene noi dobbiamo andare avanti dobbiamo fare delle riforme democratiche e dobbiamo uscire dal patto di Varsavia ricordate il patto di Varsavia famoso il patto di Varsavia era la risposta sovietica alla Nato l'URSS ha costituito questo patto di Varsavia militare dove le nazioni comuniste tra virgolette come lei si sono uniti però questo patto di Varsavia era anche un cappio al collo per questi paesi perché li strangolava da un punto di vista economico faceva pagare delle risorse portava via dei beni importanti andava diciamo la ricchezza finiva in Russia per semplificare un po' le cose quindi Nagui dice che vuole uscire dal patto di Varsavia perché la Cicoslovacchia non era veramente indipendente l'URSS diceva sempre alla Cicoslovacchia cosa doveva fare perché la Cicoslovacchia era in questo patto di Varsavia ma quando Nagui dice che si può anche uscire dal patto di Varsavia la l'Unione Sovietica il governo dell'Unione Sovietica reagisce brutalmente è impossibile che un paese si stacchi dal patto di Varsavia ma come? vuoi staccarti dal patto di Varsavia? no tu devi essere vincolato vita natural durante a questo patto di Varsavia e quindi l'Unione Sovietica invade l'Ungheria con i carri armati e mette fine alla rivolta in un bagno di sangue questo ripeto nel 56 cioè 12 anni prima ma la stessa identica cosa si ripete in Cecoslovacchia a Praga nella primavera del 1968 in Cecoslovacchia si ripetono gli stessi avvenimenti che sono avvenuti in Ungheria dieci anni prima praticamente Aleksandr Dubček diventa nuovo segretario del Partito Comunista è uno riformista amato dalla popolazione diciamo la popolazione lo sostiene che vuole cambiare il regime in un sistema più democratico e anche lui vuole uscire dal Patto di Varsavia in Cecoslovacchia si forma un imponente movimento veramente imponente animato da giovani intellettuali operai e proclama uno sciopero generale con occupazione di fabbriche e formazione di comitati di delegati quindi diventa un altro potere un potere dentro il potere cioè un potere dei lavoratori e degli operai di fronte al potere dello Stato e di fronte all'esercito dell'Unione Sovietica la rivoluzione è esplosiva la situazione è veramente incredibile voi pensate che sia in Ungheria nel 56 sia in Cecoslovacchia la popolazione dà la caccia al poliziotto politico cioè a quel poliziotto che sorvegliava la popolazione a quello che la polizia politica quindi la polizia della dittatura in Ungheria addirittura era entrata negli uffici della polizia politica aveva buttato giù dalle finestre i funzionari della polizia politica e li aveva appesi agli alberi del viale principale quindi c'era proprio una reazione di odio nei confronti del regime che opprimeva il popolo e lo stesso avviene anche in Cecoslovacchia quindi la situazione è proprio veramente incredibile perché i funzionari della popolazione erano odiati questa polizia politica avevano arrestato rinchiuso di oppositori e cittadini dissidenti però il 20 agosto 1968 i carri ammatti dell'Unione Sovietica e del Patto di Varsavia stroncano la primavera di Praga occupando tutto il paese dopo l'invasione sovietica si verifica però una grande ondata di emigrazione molti cicoslovacchi emigrano in Europa Occidentale gli studenti però continuano a protestare insieme ai lavoratori nonostante i carri armati vedete entrano guardate questa foto entrano vanno in piazza salgono si i carri armati cercano di parlare con i soldati ma non c'è niente da fare l'Unione Sovietica manderà delle truppe speciali vale a dire dei soldati di mestiere ben pagati che non si fanno convincere dalla popolazione e quindi ci sarà anche una repressione molto forte gli studenti però cercano di reagire e mettono in atto delle proteste e suicidio Jan Palak e altri si danno fuoco sulla piazza Venceslao la principale piazza di Praga a turno per protestare contro l'occupazione fanno le torce umane si cospargono di benzina e muoiono lì sotto gli occhi di tutti sulla piazza e questa cosa va sui giornali va dappertutto ma nessuno interviene a Praga gli Stati Uniti tutti i paesi cosiddetti anticomunisti nessuno interviene nella rivolta cicoslovacca nessuno interviene nella rivolta d'Ungheria perché perché c'è l'accordo di Alte di Posto vi ricordate come finisce la guerra ognuno pensi ai suoi territori non interferisca in quello degli altri quindi tutti condannano tutti gridano i giornali pubblicano le foto di Jan Palak che si brucia sulla piazza Venceslao ma nessuno interviene e c'è una famosa canzone di Francesco Guccini cercatela si chiama si intitola Primavera di Praga penso che la trovate su Youtube questa canzone è molto bella e ricorda proprio dedicata Jan Palak che ha questa cosa nella notte in cui Jan Palak perde la vita poi ci sono i funerali due giorni dopo e il regime e l'Unione Sovietica vietano alla popolazione di partecipare ai funerali ma la popolazione invece esce dalle case esce dalle sue case e in massa milioni di persone partecipano a questi funerali in un silenzio totale cioè la protesta la protesta è proprio si svolge proprio nel silenzio vi immaginate una città intera con centinaia di migliaia di manifestanti che arrivano e stanno in silenzio per tutto il funerale mentre il corteo funebre avanza per la città corteo vietato dalle autorità ma i militari con i loro carri armati mitragliatrici non possono fare nulla perché dovrebbero far fuori tutta la popolazione di Praga quindi veramente Jan Palak è diventato un esempio questo studente che ha perso la vita così per protestare per rivendicare il diritto alla libertà e alla democrazia della popolazione di Praga e quindi ecco qui quello che spiegavo prima gli accordi vedetevi questa cosa nemici che coprono quindi direi che questo è quanto sostanzialmente grazie a tutti